Puglia accelera la variante delta del virus ma nessun allarme, niente isterie, rassicura Pierluigi Lopalco, corsa contro il tempo per vaccinare chi non ha ancora ottenuto la somministrazione, ma nessun problema di pressione sugli ospedali, né fenomeni Novax, fanno sapere dall'assessorato. Circa 500 ettari di vegetazione tra macchia mediterranea e bosco sono le prime stime fornite dai vigili del fuoco sull'incendio tra Eschitella e Bico del Gargano. Intanto il pressing della politica sul Ginolisa, nessun vudei, che fine ha fatto la sede della protezione civile? E giallo nel Golfo di Taranto, ore di ricerca con gli elicotteri nel tratto di mare antistante Torre Ovo, dopo le segnalazioni delle scorse ore, circa una persona in acqua, nessuna denuncia intanto, è del presunto scomparso, non c'è traccia. Buon pomeriggio, benvenuti e ben ritrovati appuntamento in diretta. Con la nostra informazione, tra poco il punto sull'emergenza sanitaria sulla variante Delta che accelera. Intanto il Gargano in fiamme, 500 ettari di vegetazione tra macchia mediterranea e bosco sono le prime stime fornite dai vigili del fuoco sull'incendio tra Eschitella e Bico del Gargano. Il pressing sulla politica sulle sorti del Ginolisa, nessun vudei, però che fine ha fatto la sede della protezione civile? Sentiamo. Dopo oltre 24 ore di inferno è stato domato il vasto incendio divampato lunedì mattina tra Bico del Gargano e Eschitella. Sono continuati senza sosta i lanci di acqua dei Canadari in volo sugli oltre 500 ettari di bosco e macchia mediterranea interessati dalle fiamme. Danni ambientali enormi ci vorranno decenni per ripristinare in parte quanto distrutto, scrive Cia Puglia, che poi denuncia sul Gargano misure di prevenzione insufficienti. Stiamo allestendo la centrale della protezione civile all'aeroporto Ginolisa, dopodiché se ci sono dei criminali che nottetempo vanno ad appiccare in maniera scientifica il fuoco invallate come queste, con centinaia di ettari di bosco, contro i criminali si può fare che bisogna arrestare questa gentaglia. Attimi di terrore lo scorso pomeriggio quando l'incendio all'ambito alcune abitazioni nella zona artigianale di Vico, costringendo i vigili del fuoco ad evacuare una cinquantina di persone a scopo precauzionale, fortunatamente nessun ferito. Possiamo dire che siamo stati non fortunati di più perché non abbiamo avuto il coinvolgimento di cittadini in una situazione che era di poco disastrosa perché il pomeriggio diciamo che era facilmente gestibile, durante la notte dalle 8.30-9.30 è diventata molto molto pericolosa con incendi molto consistenti vicino alle abitazioni. Danneggiati una decina di depositi privati, una farmacia agricola e un oleificio, qui le fiamme hanno distrutto in poco tempo circa 800 cassuoni per la raccolta delle olive. Abbiamo perso i cassuoni che sono più o meno un'ottantina di mila euro e la cosa più grave che abbiamo alle porte è la nuova stagione e non sappiamo come fare. Come ha vissuto gli attimi relativi all'incendio? Che situazione c'era qui? Avevamo il rischio di perdere la casa, di perdere lo stabile dove c'è l'attività. Dunque la pagina sanitaria, tra poco le parole di Pierluigi Lopalco su quella che è l'accelerazione della variante Delta. Intanto la sanità che verrà occasione del quadro alla presentazione della nuova facoltà di medicina e chirurgia della Libera Università Mediterranea. Il governatore annuncia il nuovo progetto in cantiere che riguarda la creazione di due nuove aziende ospedaliere autonome per Lecce e Taranto. Rafforzare l'offerta di formazione nell'ambito della sanità e allargare la capacità di formare medici e operatori che intorno alla medicina ruotano rispondendo alla carenza del personale. E' nell'ambito di questo progetto della regione Puglia che si colloca l'attivazione del nuovo corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Ateneo privato LUM di Casa Massima in provincia di Bari. Il risultato all'esito dell'approvazione del protocollo di intesa tra regione, LUM e Miulli, valido fino al 31 dicembre del 2040. Il secondo corso di laurea in medicina che inauguriamo dopo quello di Taranto. Lunedì saremo a Lecce per inaugurare il terzo corso di laurea. Significa decine e decine di studenti di medicina in più per la Puglia. In un momento in cui ci siamo resi conto che negli anni chi ci ha preceduto aveva sbagliato completamente la programmazione del numero dei laureati sottoponendo i ragazzi, gli studenti a stress dovendo raggiungere altre facoltà e il sistema sanitario quasi a costringerlo a chiudere gli ospedali per mancanza di medici. Un disegno diabolico che la pandemia ha fatto saltare e noi ci auguriamo che questa determinazione della regione con varie componenti pubbliche o private di carattere universitario possa consentirci a breve di avere non solo molti più studenti di medicina ma anche molti più specializzanti. Nel corso di laurea è orientato la medicina del territorio e quindi a quello che è la deospedalizzazione, al lavoro negli ospedali sui pazienti acuti e alla sintonia con il territorio attraverso una capacità di trattare tutta una serie di telediagnostica attraverso anche le cooperazioni con i medici di medicina generale. Per quanto riguarda gli studenti si passerà una prova di selezione secondo le regole della legge per i corsi di studio al numero programmato che verrà svolta nella seconda metà del mese di settembre. Nel corso della conferenza stampa il governatore Emiliano ha annunciato la volontà di creare due nuove aziende ospedaliere e indipendenti per Lecce e Taranto. In ragione della loro complessità, spiega Emiliano, possono far nascere una università non agganciata a un singolo ospedale clinicizzato. L'istituzione di nuove aziende deve essere decisa dal Consiglio regionale. È probabile, molto probabile, che noi faremo al Consiglio regionale questa proposta per dare sia a Lecce che a Taranto nuove aziende ospedaliere e universitarie esattamente come esistono già a Foggia e a Bari. Intanto all'orizzonte c'è la ripartenza della scuola. L'occasione in questione è stata anche tale per fare il punto su quello che è in cantiere. A proposito, sentiamo. Trasporti e doppi turni sono state le spine nel fianco nell'organizzazione scolastica nel 2020 e 2021 e rischiano di esserlo anche per il prossimo, secondo l'allarme lanciato dai presidi. Il Governo è al lavoro per permettere un rientro in classe in piena sicurezza. Come è già accaduto precedentemente, l'esecutivo istituisce un tavolo di coordinamento per la definizione delle misure per quanto riguarda i trasporti. La misura è contenuta in un emendamento al decreto sostegni bis approvato dalla Commissione Bilancio alla Camera. Dal fronte Puglia è atteso invece un tavolo previsto per lunedì prossimo con l'ufficio scolastico regionale, sindacati e regione per cercare di continuare il lavoro fatto in questi mesi. Rassicurazioni giungono dall'assessore a ramo, Sebastiano Leo. Noi eravamo pronti anche a settembre dell'anno scolastico passato, quello che adesso ancora non è terminato. Ovviamente cercheremo di fare ancora di più. La scuola è pronta. Ovviamente bisogna fare i conti con le aule, bisogna fare i conti con il distanziamento, bisogna fare i conti con il trasporto. Insomma l'Italia e il mondo intero non erano abituati a questo. Però insomma la Puglia è sicuramente pronta e possiamo partire. Questa volta penso in sicurezza e speriamo che il Covid ci lasci in pace per iniziare in presenza questo anno scolastico è terminato. E intanto la pandemia presenta il conto. Il bilancio 2020 di aeroporto di Puglia fa segnare 67% in meno sui passeggeri, perdite per quasi 19 milioni di euro. L'anno sorribilis della pandemia presenta il conto e così aeroporto di Puglia che gestisce gli scali di Barie Brindisi chiude il bilancio 2020 con perdite per quasi 19 milioni di euro. Il disco verde al documento contabile arrivato dall'Assemblea dei Socii col voto favorevole della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Brindisi. In compenso fanno sapere dalla società le perdite che ammontano per la precisione a 18 milioni e 985 mila euro vengono ripianate con i fondi di riserva di patrimonio netto. Il traffico passeggeri dell'intera rete aeroportuale ha spiegato il Presidente Tiziano Onesti, ha fatto registrare un decremento del 67% sul 2019 più lieve rispetto ai valori nazionali ma ugualmente in grado di evidenziare la criticità della situazione. Le restrizioni alla mobilità si sono sentite, il valore della produzione si è ridotto del 53% rispetto al 2019, i costi di esercizio sono diminuiti del 31%, le speranze sono tutte riposte nel Green Pass, si intende, ma nella cassetta degli attrezzi e degli operatori c'è anche l'istituzione e il Ministero delle Infrastrutture di un fondo per i gestori aeroportuali, che si integra con lo stanziamento da parte dell'ente di Via Gentile di un altro fondo di accantonamento per la promozione del trasporto aereo. Insomma il contraccolpo si sente, ma per ora è solo una turbolenza, nessuna manovra di emergenza in vista. Brevissima di cronaca, giallo nel Golfo di Taranto, ore di ricerca con gli elicotteri nel tratto di mare antistante Torre Ovo, dopo le segnalazioni delle scorse ore circa una persona in acqua, nessuna denuncia intanto del presunto scomparso non c'è traccia. Torneremo a darvi maggiori notizie nel corso delle prossime edizioni. 16 appuntamenti, cambiamo argomento in quattro diverse location, nel cuore delle murge tra il Barese e il Tarantino e il Magna, Grecia World's Festival entra nel vivo. 16 appuntamenti e quattro location per parlare di lavoro, giustizia, sanità, economia digitale e sviluppo economico. Dopo l'appuntamento barese il Magna, Grecia World and Fest entra nel vivo da questo fine settimana in un susseguirsi di incontri culturali, letterali, dialoghi e racconti con i più importanti esponenti del mondo del giornalismo, della cultura, dell'imprenditoria, della politica e dello spettacolo accanto ai quali non mancheranno le istituzioni locali. Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle e Palagiano sono le località deputate ad ospitare l'edizione di quest'anno. La numero 24, situata nel cuore delle murge, con l'artistica ed estetica dell'antica Magna, Grecia, con la loro grande eredità storico-archeologica faranno da cornice alle varie serate, offrendo scenari distruggente e poetica bellezza. Un festival che guarda all'attualità, guarda alla cronaca, guarda a quello che sta accadendo in questo momento nel paese Italia che vive comunque, continua a vivere con la pandemia, che però riesce comunque a rinascere e vogliamo far capire alla gente, insieme alla gente, come stiamo rinascendo. Il Magna Grecia Awards che è, come dire, quasi l'esempio di come i comuni si mettono insieme per fare rete, quindi Castagninita, Ginusa, Palagiano, Gioia del Colle, tutti quanti insieme uniti in un messaggio da lanciare. Bisogna fare cultura, è opportuno investire nel sociale, ma soprattutto è importante fare rete per la ripartenza del nostro territorio. Ci fermiamo, torniamo tra poco, state con noi. Di nuovo insieme, la pagina dedicata ai territori, ripartiamo dall'emergenza. Cellera la variante delta del virus, ma nessun allarme, niente isteria. La rassicurazione arriva da Pierluigi Lopalco, assessore alla salute della regione, corsa contro il tempo per vaccinare chi non ha ancora ottenuto la somministrazione, ma nessun problema di pressione sugli ospedali, rassicurano da Via Gentile. Nessuna isteria in Puglia e i contagi sono sotto controllo. Sono le rassicurazioni dell'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco che traccia un quadro della situazione epidemiologica nella nostra regione. Boom di adesioni al vaccino e pericolo Novax scampato, almeno per il momento. Lopalco plaude la decisione di Macron di introdurre il Green Pass per l'accesso ai servizi, ma spiega, per i nostri cittadini non ce n'è bisogno. Gli aumenti ci sono, sono contenuti, si tratta principalmente di persone giovani, l'età media dei casi è di poco più di 30 anni, quindi è quello che ci aspettavamo, cioè arriva una variante più contagiosa di quelle precedenti, c'è una quota di popolazione non vaccinata, non perché non voglia vaccinarsi, ma perché ancora non è arrivato il loro turno e sono i giovani, e quindi è normale che ci sia un aumento di casi. Attenzione, stiamo parlando di tamponi positivi, la maggior parte di questi casi sono casi asintomatici o molto lievi, ancora non abbiamo nessun problema di pressione sugli ospedali, quindi come già ho detto in altre occasioni, niente isteria. Cioè dobbiamo osservare e monitorare la situazione, dobbiamo confidare nella vaccinazione. In Puglia non abbiamo al momento nessun problema per quanto riguarda il fenomeno cosiddetto Novax o di esitazione vaccinale. Ogni volta che apriamo le agende, queste agende si saturano, i pugliesi si prenotano per la vaccinazione. Nelle stesse ore arriva l'approvazione del Ministero della Salute per l'utilizzo degli anticorpi monoclonali, utili per contenere le forme gravi dell'infezione, ma che per il momento fortunatamente la Puglia non registra. Grazie al cielo, in questo momento non abbiamo un aumento di casi sintomatici gravi, e teniamo, come dire, quest'altra arma nell'armadietto pronta per l'uso. Arrestiamo a parlare di Regione. L'adesione dell'ente di Via Gentilia al progetto Bandiera Lilla in una mozione approvata all'Unaimità in Consiglio. Nell'escorsione prevede la realizzazione di aree turistiche adeguatamente attrezzate per i disabili. Presenti 29, votanti 29, favorevoli 29, il Consiglio approva. Si chiama Bandiera Lilla, vuol dire realizzare aree turistiche attrezzate per persone con disabilità motorie, auditive, visive o patologie alimentari. Il Consiglio regionale approva all'unanimità la mozione firmata dal gruppo Coni Miliano e dal DEM Ruggero Menea, che impegna la Giunta a sostenere i comuni in un turismo accessibile a tutti. L'ispirazione è quella del progetto pilota già partito in Liguria nel 2012, un riconoscimento, il vessillo ottenuto nel 2019 dalla città di Carovigno e nel 2018 da quella di Marugio, senza contare che al momento anche le città di Otranto e Lecce hanno avviato l'iter per l'ottenimento dello stesso titolo. Eppure la Regione Abruzzo, il 20 aprile scorso, ha deliberato in tal senso le amministrazioni comunali dal canto loro potranno attivare i percorsi in questione agevolando anche la concessione dei permessi necessari alla realizzazione dei semplici interventi strutturali necessari al raggiungimento della finalità. La Puglia sarà più accogliente nei confronti di tutti i soggetti che vivono una condizione di disabilità. È stata approvata all'unanimità la nostra mozione che impegna la Giunta regionale a sensibilizzare i comuni pugliesi per l'adeguamento all'accessibilità turistica nell'ottica del progetto pilota Bandiera Dilla. È una svolta su un tema delicato e spesso accantonato. A Barletta, dopo il crollo di parte di una palazzina in via Curci, nove famiglie tornano a casa. Due alloggi invece tornano ai legittimi proprietari. Tornano a casa nove nuclei familiari dell'area sottoposta a sequestro dopo il crollo di parte di una palazzina in via Curci a Barletta a causa, ricorderete, dell'esplosione di una bombola di gas. A queste nove famiglie si aggiungono altri due alloggi tornati in possesso dei legittimi proprietari. Il fatto di cronaca si riferisce al 16 giugno. L'ordinanza di revoca arriva a poco più di un mese dal fatto stesso da parte del sindaco Cannito. Lo stesso primo cittadino, dopo il sopralluogo effettuato con il CTU incaricato nella giornata di lunedì, aveva preannunciato un'accelerata e la possibilità di ritorno a casa da parte delle famiglie in attesa. L'ordinanza riguarda sei numeri civici. Per gli altri, come già comunicato, verrà garantito il sostegno da parte del Comune. Gli altri soggetti, attendendo la possibilità di rientrare nelle rispettive abitazioni, continueranno ad essere ospitati dai BNB cittadini con un costante monitoraggio rispetto alle situazioni più delicate da parte dell'amministrazione comunale. Impresa 4.0, le attività produttive, il punto sull'area metropolitana questa mattina, vediamo a che punto siamo. Migliorare la qualità della produzione, questo è il nuovo obiettivo delle imprese, puntando sull'innovazione. In questo contesto si inserisce percorsi digitali e la proposta formativa promossa da ConfCommercio è realizzata da Catt in collaborazione con Jcom Italia. Il progetto ha anche il supporto della Camera di Commercio ed è finalizzato la crescita nel digitale delle imprese delle province di Bari e Batte, delle start-up innovative. Affrontate diverse tematiche, dalla digitalizzazione aziendale alle strategie di web marketing. È una giornata molto importante perché vede ConfCommercio insieme al Catt, ConfCommercio Bari, nuovamente protagonisti di uno sviluppo delle competenze degli imprenditori. L'inizio di un percorso che la ConfCommercio della provincia di Bari sta avviando e si protrarrà per il mese di luglio con tre appuntamenti, ovviamente focalizzati sull'innovazione, focalizzati sull'innovazione della gestione di processo e di prodotto. Oggi si parla di impresa 4.0 e quindi si cerca di capire quali sono i paradigmi del nuovo modo di fare impresa e quindi quali sono le buone pratiche da adoperare e soprattutto quali sono i rischi della non conoscenza di questo argomento per le imprese e il territorio. Imprese che sicuramente hanno necessità di innovare, di innovare i processi, di migliorare la propria capacità di produzione, di lavorare sulla qualità ma che innanzitutto devono comprendere che per innovare devono puntare sulla formazione e sulla riqualificazione delle risorse umane come fattore strategico determinante per garantire il successo delle proprie imprese sul territorio ma anche all'estero. Ed uno dei settori che più sta soffrendo è senz'altro quello Cerasicolo, un IGP pugliese per battere la crisi. Se ne è discusso a noi Catano nel corso di un convegno alla presenza di tecnici, GAL, primi cittadini della filiera, obiettivo contare di più sui tavoli sui quali si decide. È arrivato quindi il momento di far partire anche un comitato promotore per l'istituzione di una IGP della Ciliesia pugliese che consenta quindi di poter dare il giusto valore a questo prodotto. Le immagini dell'Oro Rosso di Puglia sull'asfalto rovente per protesta distribuito gratis o persino dato in pasto ai maiali sono ancora impresse ma la risposta del settore Cerasicolo alla terza crisi in appena sei anni sta nel gioco di squadra. Se ne è discusso nel corso di un convegno a noi Catano ad organizzarlo il deputato ed esponente pentastellato in commissione agricoltura Giuseppe Labate alla presenza di sindaci, tecnici e rappresentanti di GAL. Obiettivo innescare un gioco di sponda che coinvolga le parti, aggregare i produttori ed arrivare ad un comitato promotore, un contenitore in grado di far da collettore nel tessuto produttivo diventando voce univoca nei confronti delle istituzioni locali e nazionali. Non un brand inteso come panacea ma come peso specifico sui tavoli che contano. Insomma, non a caso oltre al centro del barese, la filiera a nove rancheturi, conversano, casamassima, castellaneta e san michele. La Puglia fa più di un terzo delle ciliegie nazionali. È ora di valorizzare questa produzione. Il CREA, l'ente di ricerca agricolo italiano, è fortemente impegnato per dare a tutti gli attori della filiera gli strumenti per poter far crescere questa filiera importante. Tanti nostri cittadini lavorano nei campi, lavorano per raccogliere questo particolare frutto che porta ricchezza, porta lavoro, porta produttività. E produttività fa rima con infrastrutture. E ne parliamo tornando in Capitanata perché per l'aeroporto Ginolisa di Foggia la data del 15 di luglio non sarà quella del VD come previsto e soprattutto come annunciato. E allora sentiamolo il Comitato Vola Ginolisa. La data del 15 di luglio avrebbe dovuto inaugurare finalmente le attività operative dell'aeroporto Ginolisa ma dei ritardi burocratici fanno slittare in avanti questo appuntamento. Non è tanto il ritardo a preoccupare, tra l'altro prevedibile e comprensibile, ma il silenzio delle autorità, afferma il Comitato Vola Ginolisa. Esattamente. Noi rimproveriamo il silenzio. La politica regionale, locale o nazionale non può stare in silenzio. C'è un ritardo tecnico benissimo che venga detto al popolo di Capitanata e non solo in modo che non si perda di credibilità perché il Ginolisa ha una storia dove la credibilità è veramente in cattiva luce. Quindi ci aspettiamo un annuncio ufficiale del motivo e dei giorni di ritardo. Avete chiesto un incontro al Presidente. Cosa aveva stato risposto? Abbiamo chiesto un incontro al Presidente e ho ricevuto una telefonata dieci giorni fa ma poi niente di più. Devo incontrare il Presidente Emiliano per il problema protezione civile e per il distaccamento della caserma dei vicili presso l'aeroporto. Un incendio sta devastando il Gargano si sarebbe potuto gestire diversamente con una base operativa qui al Ginolisa. Senta, mi permetto di dire nella mia esperienza di pilota giocattolo sia ben chiaro che risparmiare mezz'ora di volo o da Pari o da Ciampino sarebbe significato salvare tanti alberi. Mettiamola così, lasciamo stare i costi in più. Fosse stato pronto il Ginolisa tre giorni fa avremmo avuto un grande beneficio. Arrestiamo in Capitanata ma cambiamo argomento aumenta il degrado secondo quelle che sono le denunce della quartiere Ferrovia pericolo, sporcizia ad ogni ora del giorno e della notte almeno quelle che sono le segnalazioni dei residenti a dirlo. Sentiamola. Le dico che la situazione sta precipitando succederà qualcosa succederà qualcosa di grave l'ultimo episodio è stato il lancio di bottiglie di birra ammazzeranno qualcuno si ammazzeranno tra di loro ma questa cronaca di una morte annunciata noi la stiamo recitando da dieci anni a chi daremo la responsabilità? Il tempo passa, le amministrazioni si avvicendano ma il degrado e l'immivibilità del quartiere Ferrovia di Foggia rimangono e purtroppo aumentano. Le donne residenti nella zona denunciano addirittura l'impossibilità di uscire serenamente per strada senza essere molestate immondizia maleodorante invade le strade ad ogni ora del giorno mercatini ad ogni angolo ma soprattutto inciviltà è pericolo costante per tutti non solo i residenti questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto il comitato di quartiere a chiedere un incontro urgente al commissario prefettizio ma ancora nessuna risposta. Noi sappiamo che qua ci sono locali che non hanno i servizi igienici chi ha vigilato prima di dare le licenze? Chi è venuto a controllare? Chi viene a controllare l'odore di carne marcia che c'è? La puzza che esce da certi negozi? E quando e come e perché sono state date queste licenze? C'è il giro di mazzette? Beh, ce lo siamo chiesto. Il portone di casa sua è stato di recente rotto, distrutto? Sì, il portone di casa mia viene forzato regolarmente e ormai io sto facendo un abbonamento con il fabbro nel senso che lo devo chiamare in media ogni 15 giorni perché nel portone si viene a fare sesso mia figlia che esce molto presto la mattina per andare al lavoro spesso si è incontrata con gente che stava facendo i fatti suoi nell'androne del portone. Qua c'è un problema e c'è un problema grave allora va bene ma mettetevi d'accordo tra polizia, carabinieri a polizia la risposta è abbiamo cose più importanti da fare questo è un quartiere pericoloso per i cittadini qua basterebbero 20-30 giorni chiudetela questa strada mettete le transenne e vigilatela per 30 giorni fermate dei traffici illeciti e il comparto agricolo invece fa i conti con un'altra questione che è quella dei cinghiali problematica per la quale qualche giorno fa ci sono stati sit-in manifestazioni ai piedi del palazzo del potere l'appello il pressing che arriva dal centrodestra e la politica decida le arme sono gli allevatori e gli agricoltori di tutta Puglia ed in particolare di CIA la Confederazione Italiana Agricoltori un branco di cinghiali causa danni da migliaia di euro il rimborso a forfettario per ettaro è di 700 euro un problema che deve essere superato e che va avanti oramai da troppo tempo sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale d'opposizione Francesco Ventola di Fratelli d'Italia la politica deve decidere purtroppo non è una questione odierna anzi da diversi anni che non avendo la regione applicata quella che è una norma nazionale che va sicuramente rivista ma che dà la possibilità alle regioni attraverso l'attività di sele controllo di avere un programma di contenimento e di abbattimento non essendoci questo è chiaro che oramai la cosa è degenerata mi auguro, ed è quello che noi abbiamo proposto che nelle prossime ore ci sia un atto del Presidente che in deroga a questa attività che non è stata svolta possa finalmente mettere in condizioni tutti le addette ai lavori di poter fare un vero piano di contenimento mi risulta che c'è stato un lavoro effettuato dall'Università proprio per l'attività di sele controllo adesso bisogna intervenire tempestivamente quando ero Presidente della Provincia la nostra è stata un territorio che addirittura ha rilasciato i patentini per i sele controllori perché noi facciamo parte di quella cultura ambientalista che crede sì nell'antropizzazione dell'uomo e quindi con la condivisione della salvaguardia del creato anche con gli animali ma per la stessa ragione e per far star bene gli stessi animali bisogna avere un'attività di sele controllo altrimenti bisognerà metterci una croce sopra e dire viviamo allo stato brado bene, lo stato brado significa problemi ecoginico-sanitari problemi seri per gli agricoltori problemi di ordine pubblico e questo non ce lo possiamo assolutamente consentire quindi sì al piano di contenimento attraverso l'attività dei sele controllori Torniamo a Bari per parlare di un progetto che porta alla data del 2014 ma al momento è ancora in stand-by il Municipio 2 sta pagando il relativo mutuo e la storia del parco di Viale Madre Teresa di Calcutta Poggio Franco Pare che si mancherebbe soltanto la progettazione dell'impianto di illuminazione pubblica ma ritengo che sia un'opera complementare che possa essere progettata e realizzata in tempi piuttosto brevi non giustifica i sette anni che sono già trascorsi inutilmente senza che sia stata ancora posta nemmeno la prima pietra di un cantiere che invece secondo me dovrebbe partire il prima possibile Un progetto pronto dal 2014 un'area da riqualificare con chioschi a redi urbani e uno skate park un mutuo da 170.000 euro attivo da tempo ma nessun cantiere in atto è la storia del parco di Viale Madre Teresa di Calcutta al quartiere Poggio Franco di Bari L'opera di riqualificazione sarebbe dovuta partire già da tempo in quanto il progetto è ormai vecchio di sette anni ma l'opera dovrebbe essere sottoposta a ulteriori rifiniture rifiniture che fino ad oggi non sono state ancora ultimate con tempi ancora indefiniti intanto il quartiere attende e le risposte tardano ad arrivare E non si riesce a capire quali siano le problematiche per cui questo progetto che non riguarda solo lo skate park ma riguarda la riqualificazione di tutta quest'area che è un'area importante, ricordiamo che qui su Viale Madre Teresa di Calcutta il sabato per esempio si svolge il mercato settimanale di merci varie questa è una zona che ha un grandissimo potenziale c'è la scuola Tauro, c'è la scuola King alle spalle c'è via Martin Luther King con i suoi esercizi quindi una riqualificazione di quest'area potrebbe risultare anzi risulterebbe fondamentale per tutto il territorio Restiamo a parlare di città ma di un'altra città perché a Foggia si discute della città che sarà e che verrà e a farlo sono le associazioni dei più giovani vediamo come 71-100 è il codice di avviamento postale della città di Foggia ed anche il punto di partenza simbolico che i giovani della città hanno scelto per annunciare la propria volontà critica e al contempo propositiva di programmare iniziative valide per contribuire alla rinascita del territorio contrasto alla criminalità, istruzione, cultura ambientale e del lavoro sono solo alcuni dei punti promossi dalle associazioni giovanili che hanno unito le proprie forze ed energia per supportare Foggia I giovani di questa città hanno stilato questo documento che si concentra su quattro punti principali che sono istruzione, legalità, lotta alla mafia, lavoro e politiche giovanili e sociali diciamo che i giovani di questa città vogliono una città diversa e quindi si sono messi insieme per stirare questo documento che tratta di quelle che sono le necessità che tuttora non sono rimaste inascoltate e quindi che vorrebbero realizzate in un futuro Sicuramente questo documento nasce con la volontà di donare alla nostra città un futuro diverso i quattro punti che prima elencava Stella sono fondamentali su quello che riteniamo debba essere il futuro della nostra città questo documento nasce dai giovani sostanzialmente per i giovani nasce dai giovani per la politica è un documento propositivo che sostanzialmente si pone l'obiettivo di rivedere dei passi che nella nostra città non sono mai stati trattati con la dovuta attenzione e con la dovuta necessità anche Un tema su tutti e un'idea, un progetto su tutti? Sicuramente i temi che elencava prima Stella sono cruciali tutti quanti sicuramente un tema fondamentale è l'istruzione anche dato la conformazione del tessuto sociale della nostra città e anche dato la possibilità che poi ti mette a disposizione i percorsi formativi sostanzialmente tanto possibilità lavorative quanto possibilità di crescita personale La Puglia si mette in mostra a canna trasferta ad hoc per presentare l'edizione numero 12 della Puglia Film Forum appuntamento che nasce per favorire le relazioni tra produttori, distributori, autori e registi nazionali e non La Puglia cinematografica si mette in mostra e lo fa nella splendida cornice della Croisette La Puglia Film Commission ha presentato a Cannes la 12esima edizione di Apuglia Film Forum che si terrà a Brindisi ad ottobre prossimo La fondazione ha illustrato i dettagli del programma del mercato di coproduzione con l'obiettivo di favorire l'incontro e le partnership fra produttori, distributori, autori e registi pugliesi internazionali affinché sviluppino buone sinergie per realizzare i prodotti filmici in coproduzione Ai partecipanti viene offerta la possibilità di presentare e discutere i progetti filmici avendo così l'opportunità di testarli nella loro fase di sviluppo e soprattutto di entrare in contatto con potenziali cofinanziatori È prevista una sessione di incontri one to one dei partecipanti con differenti produttori italiani ed internazionali invitate ad ascoltare i progetti selezionati A ciò si aggiungeranno sessioni dedicate alla promozione e valorizzazione dei territori pugliesi utili a far conoscere a tutti i produttori partecipanti la Puglia che da sempre si distingue anche per le sue qualità culturali e di forte attrazione turistica in tutto il territorio Girato in quattro settimane tra Bari e Polignano prossimo all'uscita nelle sale L'amore non si sa Opera prima di Marcello Di Noto arriva all'Ortigia Film Festival Basta! Bagliamo! Bagliamo! Girato in quattro settimane tra Bari e Polignano Amare lo scorso anno arriva nelle sale il prossimo 19 agosto L'amore non si sa L'opera prima del regista Marcello Di Noto attraverso la storia di un musicista e donna Iolo si racconta l'impatto che l'illegalità, l'omertà e la rassegnazione hanno sulla coscienza delle persone e la storia del film che prima dell'uscita sarà in concorso insieme ad altri cinque lungometraggi nella sezione lungometraggi opere prime e seconde italiane alla tredicesima edizione dell'Ortigia Film Festival La vicenda racconta di Dennis che lavora e si diverte sulla scia del business neomelodico gestito dalla malavita senza farsi troppe domande Quando si trova su un malgrado nel mezzo di un regolamento di conti Dennis non può fare a meno di accorgersi che il futuro non può esistere finché continuerà a camminare nel bagno asciuga delle logiche omertose Girato prevalentemente a Bari e i suoi dintorni L'amore non si sa è stato realizzato in quattro settimane nei mesi di luglio-agosto del 2020 Per la realizzazione del film sono state impegnate 82 unità lavorative pugliesi Un sostegno a fondo perduto di 15.000 euro al massimo per le organizzazioni che gestiscono attivamente uno o più spazi di proprietà pubblica destinati ai giovani e all'innovazione sociale come laboratori urbani mettici le mani in rete e luoghi comuni e l'avviso pubblico spazi di prossimità dell'ente di via gentile che resterà aperto fino al 29 luglio prossimo complessivamente stanziati 120.000 euro della regione Anche Bari insieme a Genova, Venezia, Bologna e altri centri italiani firmato nelle scorse ore il decreto ministeriale che assegna 15 milioni di euro ai migliori progetti per la riforestazione urbana 34 in tutto i progetti finanziati dei quali 14 per le città metropolitane e ulteriori 20 secondo il punteggio acquisito a renderlo noto il Ministero dell'Ambiente Una coltura in espansione in Salento ma anche in Capitanata in provincia di Bari il post-emergenza a tavola con il ritorno di erbe e spezie dalla cosmetica alla moda la Puglia riparte dallo zafferano Spezia tra le più preziose al mondo perché per produrne a un chilo servono non meno di 250.000 fiori e 600 ore di lavoro è quanto emerge da un'analisi firmata col Diretti che parla di una vera e propria riscoperta della produzione di zafferano made in Italy soprattutto da parte dei giovani imprenditori agricoli Ecco il giro di brevi si chiude questa edizione del giornale grazie per essere stati con noi arrivederci